Scappano qui al Teatro di Montalto con Rosita Celentano, Tile Fontana e Pino Quarturlo. Una commedia francese che ho riadattato perché, contrariamente a quello che succede che i cani vengono abbandonati, qui è il cane che abbandona me e lei che siamo sposati da vent'anni e quindi entriamo in crisi come coppia. Ma entra in casa lui, che invece di sollevarci il morale ce lo peggiora perché comincia a farci capire che noi siamo impazziti per questo cane. Detto questo, a parte tutto, a parte gli scherzi e Rosita che ha questi attacchi di un po' narcolettica in questo periodo, alla primavera. Però no, è uno spettacolo molto carino che fa un po' molto ridere ma un po' anche pensare a come siamo diventati riguardo a queste creature meravigliose che sono gli animali ma anche all'interno della coppia, del rapporto all'amicizia, tutte queste tematiche. Guarda, sono serissimo, però non possiamo svelare troppo, però in questo non svelare troppo Rosita ha da dire qualcosa, sono sicuro di questo. Sarò sintetica, venite a vederci non ve ne pentirete.